La città vestina di penne è stata letteralmente baciata dalla Dea Bendata, vinti 4.125.411,76 euro al bar Belvedere grazie ad un biglietto fortunato di soli 5 euro. La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi, distribuendo il Montepremi, 371 milioni di euro, in 90 schede ed una di queste quote è stata venduta proprio a penne. Francesco Marini, titolare del bar Belvedere di penne, una vincita importantissima, un messaggio positivo in questo momento? In questo periodo di crisi è un segno positivo per tutta l'area vestina e anche per tutta l'Italia perché la vincita è riscuota su tutta l'Italia, sono 90 quote, sono divise su 16 regioni, poi una vincita importante è 4.125.000 euro, diciamo che è una cosa tipo un biglietto all'otteria, 5 milioni, non è una cosa da poco. Per penne la vincita non è una cosa da poco, poi noi diciamo che siamo anche abituati a erogare vincite, siamo discendenti da vincite gloriosi tipo 800 milioni nel 74, 1 miliardo e 36 milioni nel 97. Diciamo che siamo un punto di riferimento per qui a penne e sono contento per tutti i pennesi, anche le persone che vengono da fuori. La rivestina è un paese molto importante, adesso è in declino, per noi adesso la facciamo risuscitare. Quindi in Abruzzo abbiamo la fortuna di avere due quote vincenti, una qui a penne e un'altra a Pescara. Il bar Natale, il nostro conoscente, che la salutiamo. Comunque 90 quote distribuite per tutta l'Italia, meno male che ci siamo capitati anche noi. Quindi auguro chi ha vinto, spero che mi venga a salutare, così lo indico pure dove ingassare e come fare per ingassare.